Vogliamo vedere a che punto sta il sondaggio, Gigi? Sì, abbiamo chiesto ai nostri telespettatori di dirci se questo Napoli potrà fare o meno strada in Champions. Bene, ottimisti naturalmente i nostri tifosi per l'80% del Napoli a tutte le potenzialità, un po' più scetti quel 20%. Romina, abbiamo già un sacco di email. Abbiamo anche già domande per i nostri ospiti. Allora, prima ancora di girare le domande al nostro parterre, noi ieri siamo stati naturalmente in Inghilterra, a Manchester, per seguire da vicino questo esordio del Napoli in Champions League. Abbiamo realizzato un giro per Manchester, abbiamo realizzato poi delle interviste ai tifosi, ai calciatori dopo gara. Io partirei con l'uomo del match, perché poi alla fine è tornato a fare gol e di questo ne siamo contenti, ed è tornato a fare gol forse, non forse, sicuramente nella partita che in questo momento è il crocevia della stagione. Mi riferisco a Matador Cavani, vediamo un po' cosa ha detto a chi ha dedicato il gol il Matador. Ascoltiamolo. Te lo sei proprio conservato stasera per l'esordio in Champions, il tuo ritorno al gol, Edi. No, per me sempre l'ho detto, sempre è importante segnare per la mia squadra, quindi io sono sempre disposto a segnare, solo che magari succede che delle partite non hai, diciamo, quella giornata come per, per andare a segno. È importantissimo per il Napoli aver giocato così, con questa personalità, contro un avversario così forte. Sì, sapevamo che loro sono una grandissima squadra, che hanno dei campioni, però abbiamo preparato la gara in questo modo, cercare di defenderci bene e aspettare il momento per contrattacare e fare la nostra, diciamo, delle nostre caratteristiche, il meglio che quella di ripartire e fare male. Fino a che siamo riusciti, l'abbiamo fatto e siamo riusciti a segnare. Com'è stato l'impatto personale con la prima partita di Champions, ma anche dal punto di vista emotivo? È molto importante, è importante perché, diciamo, il Napoli è da tanto tempo che non è in questo tipo di competizione, quindi per me essere oggi qua nella mia prima partita in Champions con il Napoli, dopo di tanti anni per me era, aveva una satisfazione importante, quindi è stato molto bello fare una partita in questo modo come l'abbiamo fatto oggi. Una dedica particolare, Edi, per il gol? No, la mia dedica è sempre a Dio, sempre ringrazio per tutto quello che ho, quindi dopo a tutti i tifosi, tutta la gente che ci ha accompagnato fino a qua. Questo risultato è importante per il proseguo, anche per investire la partita con il Milan? Sì, guarda, questa è la prima partita che abbiamo, diciamo, di questo girone, sappiamo che sarà molto importante, molto dura, e niente, abbiamo portato un punto a casa che ce l'abbiamo meritato, perché abbiamo fatto una grande partita, però adesso poi cominciamo a pensare nel Milan, da domani in poi che io credo che è pure importante per noi. Grazie a tutti. Grazie. Questo dunque era Edinson Cavani, tornato al gol. Tra l'altro, Cavani, c'è un particolare curioso che mi piace raccontare, aveva chiesto ai suoi due procuratori di essere presenti a Manchester per il suo esordio in Champions League. Naturalmente il giocatore non aveva mai, come la stragrande maggioranza degli altri atleti, mai giocato in Champions. aveva chiesto ad Annellucci e Triulzi di essere presenti con lui a Manchester e la presenza evidentemente è stata bene augurante, visto che è tornato al gol. Ripeto, è la partita più importante di questa stagione. Ma sento dei rumori provenire dal camerino. Ma cosa sta succedendo? Non lo so, sento dei rumori provenire dal camerino? Mi hanno detto che sono stati dei cassini. Cosa è successo? Cosa è successo? È una mezz'ora in scena, io queste cose non le ho mai fatte. Io sono l'angelo del favolare, sono il messaggero di Euromobilia, porto le buone notizie. Solo che ora non mi ricordo le buone notizie che devo dare alle signore che stanno a casa. Sto perdendo i colpi, questa è la verità. Io ho avuto 600 anni, poi lo ritengo. Allora, non me li porto male. Giovane, sono ancora giovane. Bello, sono grazioso. Alto sono alto, un metro e 72 centimetri. I centimetri, ecco il messaggio di Euromobilia. I centimetri, sta per iniziare un grande evento qua. Qualcosa di mai visto prima, è solo questione di centimetri. E che vuol dire? Ma? È solo questione di centimetri. Ma? Ma se lo dice Euromobilia, aspettatevi qualcosa di grande. E rieccoci, 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 facciamo un applauso perché grazie anche a chi ha avuto fiducia e coraggio in un momento difficile dal punto di vista economico come questo. Insomma, un applauso di incoraggiamento a chi ha creduto nella trasmissione e la produzione in assoluto degli investimenti va fatto a prescindere. Diamo voce ai tifosi. Ok. Due domande. La prima è per Ciccio Graziani. Pensi che Cavani sia più in affanno rispetto all'inizio della stagione scorsa? Beh, questo sì, è stato un po' evidenziato in queste due partite importanti che ha giocato il Napoli. Sia a Cesena che contro il Manchester City. Ma qui io non mi preoccupo di Cavani perché Cavani è troppo forte. Tra l'altro quest'anno, vista le esperienze dell'anno scorso, farà altrettanto bene. Non possiamo sapere se farà di più o di meno, ma farà sicuramente bene per il Napoli. È un po' a ritardo perché, l'abbiamo visto, non è ancora in condizioni fisiche ottimali. Evidentemente la Coppa America, le ferie, il ritorno è un po' a ritardo rispetto agli altri, se l'è nato un pochino di meno. Quindi è un po' a ritardo di condizioni, ma date detto a me, non vi preoccupate di Cavani perché Cavani ci sarà anche quest'anno. Poi hai iniziato bene, no Ciccio? Fate gol in Champions League, tu lo sai. E poi se anche in momenti particolari dove la forma non è ottimale, riesci comunque a farti trovare pronto e a fare che ha fatto lui ieri, non c'è problema. Non vi preoccupate di Cavani, ci sarà bene anche quest'anno. Grande Matador, grande Matador, uno dei punti fermi della prossima stagione. Sì Carlo, Marco Rocco su Facebook ci chiede per Gianni Improta, Gargano a fianco di Hiller, è un esperimento riuscito, si può riproporre anche in campionato oppure c'è Zema Hilli che scalpita in panchina? Ma guarda, io dico sempre, magari l'avevo detto, perché ancora prima che iniziassi il campionato... Allora eravamo in due. Eravamo in due. E dissi testualmente che tra i tre centrocampisti, diciamo parliamo di Zema Hilli, di Donadel e Gargano, quello che più si addiceva per caratteristiche a supportare Hiller era Gargano. Per un semplice motivo, perché Gargano è un calciatore duttile, un calciatore che non si ferma mai, un calciatore che completa Hiller per quanto riguarda le caratteristiche di Hiller. Hiller è il classico regista, anche se ha anche quantità, però se a Hiller gli si dà l'opportunità di lavorare in maniera più serena, più tranquilla, non si deve preoccupare tanto di rincorrere gli avversari. Gargano è in grado di rincorrere uno o due avversari. E allora quello che più si addice a far migliorare il centrocampo del Napoli è Gargano. Senza nulla togliere a Zema Hilli e a Donadel, che gli riconosco delle caratteristiche importanti. Però, a differenza di Gargano, anche come Hiller hanno caratteristiche un po' più, diciamo, offensive per quanto riguarda Zema Hill. Un po' da, diciamo, da centromediano metodista, però meno cursore Donadel. E quindi io preferisco uno come Gargano, che a Hiller gli dà una mano incredibile, dal punto di vista dinamico. Carlo, non sono molto d'accordo con Gianni. Perché? Perché io dico che il Napoli è passato da Gargano, pazienza, a Hillner, Zema Hilli. Allora, io Zema Hilli l'ho seguito tantissimo quando era al Toro. E sono due giocatori che sanno fare quantità e qualità. Il centrocampo del Napoli, con questi due giocatori, è migliorato come qualità moltissimo. È vero, Gargano ha delle qualità che non hanno gli altri due. Quando devi andare ad aggredire, a rincorrere, a pressare, è un giocatore importantissimo. Tra l'altro, in questo momento, diciamo che è un'alternativa. Il Napoli si è rinforzato molto al centrocampo, proprio perché ha portato Ilner e Zema Hilli, che hanno quantità e qualità. E noi andiamo un attimo in pubblicità.